Presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, Gian Battista Baccarini. Abbiamo sentito il servizio, vorrei che lei appunto ci dicesse il suo punto di vista. Si parla di pace edilizia, condono, di che cosa si tratta? E soprattutto di quali irregolarità edilizie, Presidente, noi stiamo parlando? Lei, con la sua capacità didascalica e esplicativa, ci può fare anche degli esempi. Sanatoria in che modo? Di che cosa? Molto volentieri. Allora, prima di tutto è bene sottolineare che si tratta di un primo pacchetto di norme all'interno di un progetto più ampio, che è la definizione di un piano nazionale sulla casa, che ha un obiettivo molto chiaro, che è quello di aumentare l'offerta di abitazioni sul mercato, perché questo comporterebbe una riduzione dei prezzi delle case e dei canoni di locazione, che sappiamo essere arrivati a livelli spesso insostenibili, e favorendo l'accesso alla casa. Chiaro che per fare questo ci vogliono tante risorse e anche tanto tempo, quindi tutta la filiera dell'associazionismo edilizio immobiliare, quindi non solo gli agenti immobiliari, ma i costruttori, i tecnici, il notariato, ma anche IMSS, Casa Depositi e Prestiti, l'Associazione Bancaria Italiana, l'ANCI, cioè i comuni, tutti quanti insieme abbiamo condiviso col Ministro Salvini, l'opportunità di mettere in campo questo primo pacchetto di norme che ha l'obiettivo di favorire la commerciabilità regolare, cioè la circolazione nella legalità di tutti quegli immobili, abbiamo sentito il servizio, 8 immobili su 10, vuol dire che noi qui che siamo per dire in 4-5, i due terzi, più di due terzi, insomma hanno delle criticità e non lo sanno, e anche ad andare a sbloccare quelle centinaia di migliaia di pratiche edilizie che vanno a intasare gli uffici tecnici comunali andando ad alimentare nervosismo nella comunità che poi si traduce spesso in contenzioso contro la pubblica amministrazione che sappiamo essere un costo sociale. Presidente Baccarini ha sentito, è d'accordo sul concetto di doppia conformità e poi voglio sapere, da lei si è anche parlato, di ampliare le tolleranze costruttive che oggi sono fissate rigorosamente al 2%, quindi mi dica intanto se è d'accordo con Timpone sulla doppia conformità e poi che cosa significa, che valore ha questo ampliamento? Certo, il problema è proprio lì, cioè giustamente la polemica sta nel fatto che oggi è già possibile attuare una sanatoria per difformità interne, è l'articolo 36 del DPR 380 del 2001, cioè il testo unico per l'edilizia, prevede questa possibilità. Il problema qual è? Che per procedere diciamo alla sanatoria è necessario l'accertamento di una doppia conformità alla legge, ma la legge sia all'epoca in cui è stato realizzato l'intervento, sia oggi che chiedo la sanatoria e questo non è mai allineato, cioè ciò che si poteva sanare una volta oggi non è più sanabile o viceversa e quindi c'è il blocco delle centinaia di migliaia di pratiche e da qui l'importanza appunto di riuscire invece a mettere in campo la possibilità appunto di sanare alleggerendo e velocizzando questi processi. Per quanto riguarda invece il tema della tolleranza, il problema qual è? Che non sono i proprietari furbetti che hanno creato abusi e adesso se ne vogliono approfittare e quindi non hanno operato nella legalità, ma tenendo conto che l'80% del nostro patrimonio immobiliare è nelle tre ultime classi energetiche, cioè è stato costruito oltre 40 anni fa, all'epoca gli strumenti di misurazione non erano quelli moderni, quindi il muratore che andava a fare una casa piuttosto che il tecnico che non aveva diciamo tutti gli strumenti digitali di oggi, si sono protratti questi errori originari, quindi nei vari passaggi di proprietà non sono mai stati intercettati perché come diceva in parte prima anche il tributarista, il notaio che verifica la regolare esistenza dell'immobile ovviamente dal punto di vista edilizio, ma non ne garantisce la conformità rispetto allo stato reale dei luoghi perché non vede l'immobile che stipula, quindi non può garantire che quello che è nella piantina depositato in comune è uguale rispetto allo stato reale della casa, cioè la finestra posizionata esattamente in quella parte piuttosto che un tramezzo, piuttosto che una nicchia nel muro. Quindi la nostra proposta, e dovrebbe essere recepita all'interno del decreto salva casa, è quello di riparametrare le tolleranze costruttive, una sorta di franchigia, una sorta di margine di errore che oggi è fissato nel 2%, riparametrarla in maniera inversamente proporzionale alle dimensioni dell'immobile, cioè più è piccolo l'immobile più deve essere grande questa percentuale perché il 2% di 500 metri non è il 2% di un appartamento di 50 metri e secondo noi verrà recepita. Baccarini sta sentendo la De Grenet? Sì sì sì, ma io credo che debba sempre regnare il buon senso e l'equilibrio nelle cose, ed è chiaro che ci sono degli aspetti che si incrociano a livello normativo, cioè prima abbiamo parlato del testo unico dell'edilizia e poi c'è tutto il tema della norma sulle norme paeseggistiche e quindi si incrociano e proprio l'obiettivo, il motivo di questo decreto è andare a sbloccare quelle infinità di compravendite che hanno delle criticità, che presentano delle criticità, proprio su difformità che sono da anni e anni che si protraggono come può essere anche valutato un termine la parte inerente al balcone. Diciamo che si è parlato di non aumenti di cubatura e assolutamente nessuna associazione ma lo stesso ministero e lo stesso capo legislativo ha mai parlato di aumenti di cubature e di condoni perché voi sapete i condoni sono stati tre negli anni, nel 1985, nel 1994 e nel 2003 voleva dire sanare delle case costruite in zone non autorizzate piuttosto che pezzi di casa in più in una casa indipendente, quindi non aumenti di cubatura, ecco si parla di riordinare, riallineare situazioni, potrebbero anche prevedere diciamo situazioni nel balcone, questo non è detto, bisogna vedere come la scrivono il testo. Il decreto mira, almeno se ho capito bene, lei mi corregga se sbaglio, a favorire anche i cambi di destinazione d'uso. Degli immobili però tra categorie omogenee. Allora la domanda è cosa comporta questo in termini di benefici? Ce lo può spiegare in maniera semplice? In maniera molto semplice, molto concreta e se verrà recepita è proprio una battaglia che la nostra federazione ha portato avanti, sta portando avanti, ovvero trasformare banalmente quella miriade di uffici che sono vuoti nelle città per lo smart working dopo la pandemia si è ampiamente sviluppato, piuttosto che cambiamenti di strategie aziendali, trasformarli e agevolare i cambi d'uso degli uffici in abitazioni. Perché questo? Perché gli uffici hanno già tutte le caratteristiche di un'abitazione, la luminosità, la tipologia, la razionalità, l'impiantistica, oggi non c'è più negli appartamenti il gas e quindi va bene il piano induzione, c'è la razionalità interna, quindi sono pronti per essere immessi sul mercato e quindi offrire o meglio aumentare l'offerta abitativa soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma, Napoli, Bologna dove c'è una forte attrazione turistica, una forte attrazione universitaria, una forte attrazione lavorativa, ecco c'è bisogno di case di abitazione e questo andrebbe a mettere sul mercato appunto più abitazioni e andrebbe quindi a attenuare il tema problema dell'emergenza abitativa che attanaglia tanti grandi comuni.